Ciao Roberto, è un piacere di incontrarti. È bello vedere te anche. Siamo qui a Miami per dare il benvenuto a Mark che è appena rientrato da una crociera con i suoi investitori più importanti. Sono stati per tre giorni nel mare del Caraibi a investire, a imparare, a scoprire come si può a comprare case dalle banche anche se sei sul trasporto. Quindi ho appena raccontato loro che stavano avanti al Caraibi e stavano cercando le banche e stavano comprando le banche e stavano comprando le banche. Stavano facendo offerte sui casi reali. Siamo appena ritornati da un programma di studio avanzato per i miei studenti. e come parte di questo programma abbiamo effettivamente fatto ricerche su proprietà reali direttamente sul mare. E la parte bella del genere è che migliora il concetto di investire da ogni parte. Ok, e quello che è bello è che di fatto dimostra la dimostrazione vivente del concetto che si può investire da qualunque punto del mondo. Sì, abbiamo usato l'internet sul canale per ricercare le proprietà usando REO Goldminer. Abbiamo valutato le proprietà usando Investor Comps Online e abbiamo chiamato gli agenti usando Skype. Allora abbiamo cercato le proprietà usando un programma che si chiama REO Goldminer che è un programma che trova le proprietà messi in vendita direttamente dalle banche. Poi abbiamo fatto una ricerca sul valore di queste proprietà usando ICO che è Investor Comps Online che è il programma che lui offre proprio per la valutazione. E poi abbiamo usato Skype per chiamare i rappresentanti delle banche e fare la prima parte della trattativa. Allora, la cosa bella è che molti nostri studenti avevano un'email o un messaggio di voicemail dai clienti o dai agenti per le proprietà che avevano trovato mentre eravamo all'estate. Oh wow! E dice che diversi dei suoi studenti, mentre erano in crocello, hanno ricevuto o un messaggio vocale o un'email da questi clienti che avevano contattato facendo delle controproposte oppure proseguendo nella trattativa. Quindi la trattativa è stata avviata ed è proseguita sul mare. E' davvero molto felice per avere l'opportunità di share le strumenti, le insegnazioni, le tecnologie e le strategie per aiutare tutti i nostri clienti italiani. Ok, veramente non sto nella pelle la prospettiva di poter mostrare agli investitori italiani come usare questi strumenti e queste strategie direttamente dall'Italia per investire qui negli Stati Uniti. Non vedo l'ora. E la cosa più meravigliosa è che mio buon amore Roberto mi ha dato un software che mi permetterà di imparare l'italiano a una velocità incredibile. Quindi vi parlerò in italiano. E non vedo l'ora. Quindi di nuovo Marco Giacsoni da Miami che impara l'italiano. No, no te amare. No questions? No questions? No. Wonderful, 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 wonderful.